Ciao a tutti amici investitori e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio condividere con voi 5 notizie fresche fresche che riguardano il mondo della finanza e degli investimenti, perfette per chi, come me, adora il value investing e cerca sempre di capire dove si nascondono le prossime grandi opportunità. Preparatevi, perché vi porterò in un viaggio attraverso i mercati, con qualche sorpresa lungo il percorso. Primo punto da non perdere. I futuri delle azioni USA hanno visto un piccolo rialzo dopo una giornata abbastanza buia per il Dow Jones, che ha perso oltre 500 punti, il suo peggior risultato da marzo 2023. Tutto questo movimento è stato causato dai commenti del presidente della Fed di Minneapolis, Neil Kashkari, che ha accennato alla possibilità di non vedere tagli dei tassi di interesse nel 2024 se l'inflazione persiste e l'economia rimane robusta. Un classico esempio di come le parole influenzano i mercati, non trovate? Parlando di lavoro, siamo tutti in attesa di vedere i dati chiave sull'occupazione negli USA che usciranno venerdì. Si prevede che questi dati mostrino un mercato del lavoro ancora forte, segno di un'economia resiliente. Questo potrebbe significare che la Fed potrebbe non essere così pronta a tagliare i tassi quanto speravamo. È interessante, perché ci ricorda quanto sia importante tenere d'occhio la macroeconomia quando si pensa agli investimenti. Ora, un po' di petrolio nella fiamma. Il prezzo del Brent ha superato i 90 dollari al barile, un livello che non vedevamo da ottobre. Tra tagli alla produzione dell'OPEC, tensioni geopolitiche e una forte domanda dei consumatori, ci aspettiamo che i prezzi alla pompa salgano quest'estate. Questo è un classico esempio di come eventi apparentemente lontani possano influenzare il nostro portafoglio e il nostro quotidiano. E poi, Janet Yellen, la segretaria al Tesoro degli USA, ha sollevato preoccupazioni sull'eccesso di capacità produttiva della Cina, che potrebbe avere ripercussioni sull'economia globale. È interessante notare come le dinamiche internazionali possano influenzare i mercati e, di conseguenza, le nostre decisioni di investimento. Infine, una notizia un po' sorprendente. Apple ha annunciato il licenziamento di più di 600 dipendenti in California, dopo aver cancellato il suo progetto di veicolo elettrico. Questo ci ricorda come anche le grandi aziende devono fare scelte difficili e come queste scelte possono influenzare non solo gli investitori ma anche l'economia in generale. Prima di continuare, voglio solo ricordarvi, se quello che state vedendo vi interessa e vi sembra utile, per favore, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Questo aiuta davvero molto a portare avanti questo progetto e a continuare a condividere con voi analisi e spunti interessanti. Grazie di cuore. Riflettendo su queste notizie, ci sono diverse lezioni e spunti di riflessione per noi amanti del value investing. L'importanza di tenere d'occhio l'economia globale, le decisioni delle banche centrali e le dinamiche geopolitiche è più evidente che mai. Ma c'è di più. Queste notizie ci ricordano anche l'importanza di essere flessibili e pronti a rivedere le nostre strategie di investimento alla luce di nuovi dati e situazioni. Per chiudere, amici investitori, ricordate sempre di fare le vostre ricerche e considerare tutti gli aspetti prima di prendere decisioni di investimento. E non dimenticate, nel mio canale, parlo sempre in prima persona perché qui condivido la mia passione e le mie riflessioni su come navigare il mondo degli investimenti, ma senza mai dimenticare che ogni investitore ha il suo percorso unico da seguire. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di queste notizie e come pensi che influenzeranno i mercati. E ora, continuiamo questo viaggio insieme nel mondo degli investimenti. Alla prossima!